Prima un brano scritto a quattro mani insieme ad un musicista di muro, Daniele Barbato, ho voluto esprimere attraverso questo canto l'amore che mi dà forza ogni giorno dell'amore della mia famiglia. Se ho da piangere, piangeranno con me, se ho da ridere, gioiranno con me. Nelle nostre vite il valore più importante arriva proprio alle famiglie, così come per Andrea. La forza che gli è stata data dalla sua famiglia lo porterà sicuramente ad avere grandi risultati nella vita. E io spero che questa famiglia non sia solo la sua, ma la famiglia di tutti i sardi, ai quali voglio dire Bosca Erzoeno. La forza che gli è stata data dalla sua famiglia, non sia solo la sua famiglia, non sia solo la sua famiglia, non sia solo la sua famiglia. La forza che gli è stata data dalla sua famiglia, non sia solo la sua famiglia, non sia solo la sua famiglia. La forza che gli è stata data dalla sua famiglia, non sia solo la sua famiglia, non sia solo la sua famiglia. La forza che gli è stata data dalla sua famiglia, non sia solo la sua famiglia, non sia solo la sua famiglia. La forza che gli è stata data dalla sua famiglia, non sia solo la sua famiglia. La forza che gli è stata data dalla sua famiglia, non sia solo la sua famiglia, non sia solo la sua famiglia. La forza che gli è stata data dalla sua famiglia, non sia solo la sua famiglia. La forza che gli è stata data dalla sua famiglia. La forza che gli è stata data dalla sua famiglia, non sia solo la sua famiglia. La forza che gli è stata data dalla sua famiglia. La forza che gli è stata data dalla sua famiglia.